Paola Torre è un altro campo marino, quello che sta scendendo in campo nelle ultime domeniche, nelle ultime due. Rilevante questa bella vittoria contro la prima della classe, avevate vinto anche lo scorso anno, ma questa è una vittoria particolare perché riapre i giochi sia sopra che sotto. Sì, diciamo che in casa con l'Auro Alto Casertano sono due anni, 1-0, 1-0. Si è visto già da Venafro che avevamo cambiato ritmi, a Boiano, tutto sommato non abbiamo fatto una brutta partita, anzi sotto il punto di vista della cattiveria ce la siamo giocati fino al novantesimo perché il gol l'abbiamo preso al novantesimo. Come ho detto nell'intervista sempre di Boiano, noi non moriamo mai. Noi fino al 12 di maggio che ci saranno i play-out, se ci entriamo lotteremo fino alla fine. Senti avete giocato con una grossa concentrazione, questa forse è stata l'arma in più vostra. Sì, sì, sicuramente siamo entrati concentrati tutti quanti, anche perché qualcuno fuori luogo, tipo io terzino-sinistro, Remo esterno-alto a destra, quindi sicuramente la concentrazione si è alzata ancora di più. Senti una bella vittoria che vi apre le porte, ve le apre per poter gestire il finale di stagione in migliore dei modi. Domenica entra esperta per cercare di confermare quello che di buono avete fatto contro la prima della classe. Sicuramente, domenica ci aspetto un'altra partita tosta. In casa abbiamo fatto 2-2 con il Fortore, quindi dobbiamo cercare di andare là e prendere il bottino pieno. Ormai siamo a 7 partite alla fine, 8, 7 partite alla fine e dobbiamo cercare di fare il bottino pieno tutte le domeniche. Tu fin quando ci sarai? Prima di iniziare il tour? Fino alla fine di marzo, prima di Pasqua. Partirai con i Poo in tournei o no? Forse a ottobre. Con i Poo? Sì. Invece adesso? I pinguini tattici nucleari. Buon divertimento. Grazie.